Con un avviso pubblico, l'ufficio economato del comune di Caltanisset rende noto che con un verbale di rinvenimento oggetti smarriti è stata rinvenuta la somma di 100 euro. Pertanto si invita il legittimo proprietario a presentarsi presso l'ufficio economato. Per ulteriori chiarimenti abbiamo chiesto alla responsabile Patrizia Falzone come il proprietario possa essere riconosciuto. Certo non è facile trovare dei criteri di identificazione della moneta, però intanto la procedura prevede che l'oggetto smarrito venga consegnato all'economato, venga fatto un avviso per un anno e dopo un anno se non si è trovato il proprietario, questo oggetto è rinvenuto, qualunque esso sia viene a rinvenire nella proprietà, nella sfera privata del ritrovatore. Certo trattandosi di soldi che se dovesse venire un cittadino a rivendicare questa somma, noi cercheremo di fare degli investigatori privati, chiedere quando l'ha perso, dove l'ha perso, in quali circostanze, perché queste non le conosciamo, perché ce le dice, ce le attesta il ritrovatore. E quanti pezzi, da quanti pezzi è composta quella somma? E qui insomma, di solito comunque non vengono a reclamare, i soldi, abbiamo finora capitato che i soldi sono andati nelle tasche del ritrovatore, perché chi perde i soldi non pensa mai, non so perché, al fatto di venire all'ufficio economato. E magari diffondendo questa voce attraverso questo mezzo, magari si viene a sapere in maniera più diffusa. Grazie. Grazie.